UUUUH! No, scopo! No, questo è un'omicidiale, questa kill che ho fatto! Che una musichetta! Dove vuoi andare? Eh, non buttiamoci una lì, lui, dai! Atterra sopra! Capito? Atterra in questa casetta qua! La vedi questa qua sotto? Ok, atterra lì che ci fa sempre qualcuno! Oh cacchio, c'è gente, lì vengo da te! Ah cacchio, non ci sta niente, ora moriamo! Andi l'arma, vieni con me! Non lo so dove so dove... Caramba, c'hai il cecchino! Stato su di me! Ah, è vero, questo è scritto tra cecchini, quindi lo posso pittare tranquillo! Oh, dietro! Capito! Capito! Dai, vai! Capito! 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 Questa c'ho un tipo... Ok, l'ho uccisi! L'ho uccisi tutti quanti! Qua c'ho un medikit, se vuoi! Vi dovevo fare la sfida a tempo! No, è rimasto uno là sopra, da che qua puoi cadere che non ho messo qui il coso, qua devi saltare Ok Io ho la granata in impulsi Ma quella parola non ci serve, c'è uno scudo da 50 su quel tetto di forse commercio andiamo lì, in safe dopo vieni prima dentro Ok Che stanno questi, come sai che fanno? Ah ragazzi questo è il gestore Un altro, ho sceltato Un altro, ok questa qua clip la metto su youtube, quindi saluta youtube Capito? Capito tiger, saluta youtube, non so se ci hai messo i condividi audio Ok ciao, sì sì, ciao Eh no, kg ci ho fatto, forse ci ho fatto 7 kg Ho preso aktutico preso 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 ok stanno costruendo abbiamo pure qua dove c'è questo albero ho sparato io a quello di un uretto non stare molto tempo a ferma oh la stella boom mind shot ecco lì oh a destra ce le qua ce le qua stanno scostando su dove questa da qui devo stare fermo questo ho visto è 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 era di fianco occhio è è è è è è iniziato a a a a a a a no where is he? a 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 addio no perché non è morto ma ma non è che è un hacker no 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 è mortale cazzo no segnalo uno di vita no è impossibile no questo è hacker perché una trappola colpi di cecchino cosa ok ok dammi un attimo si auguro io sa un po' glippo cazzo adesso quanta kill sa fatta è una kill su di me ok 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 ok